eccolo qua la seconda scatolina che mi è arrivata tifi dog dove c'è l'attesivo e le tre bustine dove c'è anche il codice promozionale mostre dentro le bustine c'è il codice promozionale dietro la carta promozionale e questa è la brutta da aprire proprio da aggressive c'è anche pikachu pikachu ah doppio pikachu l'attesivo carta promozionale qua bisogna dividere carta con carta e plastica con plastica però un po di carta rimane attaccato dove c'è la plastica dove c'era troppa colla ecco qui il bel adesivo adesivo sempre effetto ciambella biscotto di marzapane ecco qui la carta promozionale che in modo diventa un fili dog di secondo di fase 2 è rimasto sempre piccolo ecco qui il codice quello al contrario così il 9 diventa 6 la x rimane sempre x lo metto nella versione dritta e il primo che riesce a prenderlo se lo prende tramite il sito l'app come vi trovate apro che non so il primo pikachu chissà chi sarà si è aperto facile facile ecco qui un altro codice subito l'energia acqua buone abbiamo tra poco nella precetta o per di paltea tante mouse ma anche i frittre generatore d'energia giornale un macchinario tecnico pugno disperato per adesso tutti doppioni sono usciti prima ape bella assomiglia un po come si chiama a quell'anziano dove sta goku quell'anziano col bastone vecchio saggio non so se si chiama così assomiglia un po' a lui fase 1 che si evolve da monkey bella questa come per una bustina gas al contento dietro c'è carcadette dietro raramente si trova cose ricerca accademica è un'altra che trovo spesso spesso di doppioni si affondendo come prima bustina che è uscita è uscito prima ape che sai le altre due come saranno chissà la seconda di pikachu l'altra bustina che si aperta facile facile ecco l'altro codice chissà che energia uscirà energia fuoco fuoco maschiff quello che mi arriverà non lo so se questo qua che mi arriverà la prossima volta maschiff barbock hankong anche il pupazzetta di questo di gomma aperto un po di tempo fa una bustina promozionale esecute di nuovo mette la macchina la tecnica pugno disperato c'è ganga gengar gengar generato energia e un'altra mi sapete c'è carta esistente doppione ma anche un po di doppione di questo mi stanno capitando quando escono questi non so se dietro ci sarà qualcosa di buono dietro e dopo dietro di questa ruoper di paldea dietro non ci sarà quasi mai niente un due stone un due stone quando esce questa come terza ultima non di pdc poco e niente almeno a me capita così tranne se sono tre caccia buono vado con la terza postina eccolo quel codice chissà che energia verde da parecchio che non usciva vado con matica magmarsh forse ha messo uscire energia fuoco magmarsh noemi perché si è uscita charmander tutto fuoco stanno uscendo non è che non riesce l'ultima carta la terza ultima quella di charizard se esiste caramella rara e che cava di nuovo graploc zaino di noemi mi sa non è riuscita prima eccola qua noemi e zaino di noemi ecco la carta dopo si vede ma anche gravert e ti è tra aveva avrò quasi tutto tranne poche quando saranno 34 da aggiungere alla collezione che sarebbe questa messa che ci avevo una che da aggiungere questa rimane che prima apre in più la carta promozionale che c'è a 3 quando saranno 34 carte a partire adesivo aggiunge la collezione spero nell'ultimo come si chiama maschie vorrebbe essere o il parente di maschie spero di trovare qualcosa di meglio in quella e forse poi mi arriveranno i mini tin ci vediamo la prossima al prossimo video ciao 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 Grazie.